Occorrono risposte concrete in tempi rapidi per l'utilizzo dei fondi che arriveranno dall'Europa per favorire la ripresa economica e quanto emerso durante l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Mattarella, e il Presidente del Consiglio Conte accompagnato da alcuni ministri in vista del Consiglio Europeo di domani sul piano di rilancio dell'Europa. Mattarella dunque sprone il Governo a fare in fretta e nello stesso tempo esprime soddisfazione perché le posizioni iniziali dell'Italia sugli aiuti per i singoli paesi sono oggi patrimonio comune ma sugli aiuti che potrebbero arrivare dall'Europa la politica continua a dividersi. Arriva da una posizione sicuramente di forza essendo stata tra i paesi che più hanno spinto e adesso raccolgono perché l'Europa producesse quello sforzo straordinario che è il Recovery Fund. Io ovviamente sono contrario, considero il MES uno strozzinaggio legalizzato che si aggiunge all'evasione legalizzata che accade in Unione Europea e allo sfruttamento dei lavoratori che è sempre garantito dall'Unione Europea. I 172 miliardi che è tanta tanta roba per l'Italia di MES non ne parlerà più nessuno perché è tutto meglio del MES quella roba lì. A Villa Panfili intanto continuano gli stati generali dell'economia nella quinta giornata spazio ad altri settori colpiti dalla crisi, dall'agricoltura, al turismo, allo spettacolo.